all'angolo blu per la pugilistica Ottavio Tazzi al peso odierno di ottanta chilogrammi e zero cinquanta Opa Iulius Andrei all'angolo rosso per testudo al peso odierno di settantanove chilogrammi e novecento Daniele Bestia Reggi Un match attesissimo questo Dario un match molto atteso e anche qui sono coinvolto in prima persona perché Daniele è un grandissimo amico compagno di palestra e di allenamento Allora guarda Daniele lo conosco anch'io ma conosco anche non personalmente come Daniele Iulius anch'io hanno già combattuto tre volte insieme se non mi sbaglio quindi si conoscono molto bene quindi assisteremo un gran bel match questa sera incrociato i guanti con entrambi in allenamento abbiamo anche qui un tecnico mancino questa volta Iulius molto tattico molto molto attento molto mobile per la categoria mentre Reggi che è praticamente la versione dell'angolo blu del match di sessantanove chili però di ottantuno esatto infatti stavo per dirti qua siamo agli ottantun chili sono pesi importanti sia da muovere ma colpi che quando arrivano si sentono tantissimo assolutamente Daniele 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 che ferma da un anno tra l'altro ha preso primo ha fatto il primo match ieri sì 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 anche ieri ritmo assurdo anche ieri fino alla fine un match bellissimo tra l'altro in cui ha messo anche giù l'avversario all'ultima ripresa di Iulius purtroppo non so da quanto tempo non sta sul ring ad affrontare un match approssimativamente allo stesso periodo esatto all'incirca questo sarà un match rispetto a quello che hanno affrontato ieri sarà un match dove si studieranno un po' i due ragazzi secondo me iniziano a darsele da seconda ripresa o tra poco dipende da cosa gli passa per la testa guarda Daniele Daniele è uno che mette pressione ma lo fa intelligentemente come stiamo vedendo sta capendo comunque di lavorare con i con i colpi a media distanza e poi accorciare in un secondo momento alla difesa arrivando proprio alla corta distanza Iulius non lo vuole addosso giustamente è un ottimo tecnico perché lo sa perché lo sa che quando c'è addosso Dani inizia e non si ferma più si conoscono sai il bello e il brutto di combattere con un pugile come Daniele è un ragazzo molto intelligente Iulius a livello tattico quindi sa simili fisicamente sì 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 Iulius un colpino più alto tecnicamente migliore come abbiamo potuto vedere meno colpi ma molto puliti come questo bellissimo montante al fegato che ha messo reggi molto più sulla quantità e sulla consistenza fisica io ci faccio sparring spesso vi posso garantire che è un polmone come si dice in gergo ce l'hai addosso ripresa dopo ripresa a prescindere dal fatto che tu lo colpisca o meno e questo da parte di tutte e due penso sono tutte e due molto tenaci come assolutamente assolutamente non ci stanno a perdere ci stiamo giocando una finale il passo per le fasi finali dei campionati tutti vogliono essere lì tutti vogliono andare lì e vincere quindi oggi questo passo si 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 combatte con i denti e con le unghie la prossima volta dovremo andare a disturbare i pugili prima dell'incontro quando arrivano per chiedergli un po' le loro sensazioni così sappiamo come salgono sul ring esatto beh sicuramente da da occhio esterno è molto bello vedere in questo caso un attimo interrompiamo la poesia per sottolineare uno scambio di entrambi un colpo ciascuno a Julius col dritto sinistro pulitissimo da parte di Julio ci prova Reggi adesso restituisce il destro chiude bene prova a tenere la distanza per cercare di entrare sta quasi finendo questa prima ripresa diamo Reggi che non ci sta a ricevere colpi vuole attaccare sta si sta avvicinando sempre di più a Julius Daniele fa un lavoro anche fantasma a volte perché è un lavoro al corpo a strettissima distanza ma che fiacca alla lunga col passare delle riprese anche i pugili più mobili questa è giustamente un lavoro tattico che si fa proprio per portare un pugile tecnico e mobile sul piano un po' più statico e un po' più ravvicinato che è il piano che Daniele preferisce quindi come abbiamo potuto vedere anche in fase di clinch si è lavorato molto i colpi si sono equilibrati infatti questa prima ripresa sono stati lì lì per lì tutti e due è difficile è difficile da segnare questa ripresa perché si sono sosseguiti pressione colpi un po' meno puliti da parte di Daniele a un paio difendenti davvero visibili da parte di Julius quindi una ripresa che io non so a a chi dare adesso attendiamo la seconda vediamo se cambia qualcosa vediamo un po' se cambia l'intensità Daniele Reggi parte fortissimo va subito contro Julius Julius cerca di svincolarsi cerca di andare in via da Daniele perché lo sa che se dovesse avvicinarsi troppo e chiudere le corde Daniele inizia a tirare adesso il destro di Daniele inizia a tirare a raffica pugna raffica pugna raffica non si ferma per quello chiamano bestia assolutamente Daniele cerca come abbiamo detto prima la la corta distanza quando la trova lavora davvero col ritmo e esatto non si ferma più assolutamente infatti Julius lo sa guarda che prova con il montante di Julius bellissimo bello poi il gancio restituito da parte di Daniele sì perché Julius ha provato a entrare con il gancio e Daniele l'ha mancato l'ha evitato e gliel'ha restituito ecco questa è la corta distanza di Daniele bello adesso un altro colpo da parte gancio destro da parte di Julius e poi il lavoro di quantità da parte di Daniele Daniele dovrebbe lavorare con maggiore consistenza al corpo e salire terminando l'azione con i colpi alla testa qua ha preso un bel dritto destro dopo che l'ha sferrato bello adesso lavora il colpo da parte di Daniele diretto destro che Julius sembra aver sentito ma poi risponde con un gancio destro che tiene una posizione quando sta all'angolo molto inclinata per cercare di evitare qua preso ancora un dritto destro non bella risposta di Julius adesso sentiamo un grande tifo da parte dei due angoli da parte due maestri che incitano i loro beh questo è un po' un derby esatto bravissimo è un derby tra apot e testudo assolutamente due palestre ma una grande famiglia due palestre che collaborano infatti ci conosciamo tutti quanti perché ci vediamo spesso è veramente un derby hai ragione tu bello il destro di regge adesso beh Julius non deve calare assolutamente di anticipare Daniele prende il sopravvento perché in quel momento cosa è successo Julius ha cercato di andare via ha cercato di andare via e Dani non l'ha mollato e l'ha colpito adesso prova a entrare con i montanti Daniele mentre Julius è lì Julius cerca di entrare all'interno della guardia di Reggi adesso i colpi di Reggi che hanno sono entrati si sono fatti spazio nella guardia chiusa continua questo lavoro al corpo e poi chiude sopra colpi cortissimi ma che bello adesso l'incrocio mandata in vuoto Julius il montante che prima ha trovato la strada è stato incontrato dal diretto destro bello adesso lo bellissimo Julius ha messo due tre colpi a segno su Reggi arriva quasi la fine di questa seconda bello ancora Reggi continua inesorabile come ti dicevo che non saprei proprio chi sta dominando anch'io mi sono davvero in difficoltà la pressione da parte di Reggi la mole di lavoro è migliore e superiore da parte da parte dell'angolo rosso di Reggi la pulizia dei colpi però è davvero da manuale quelli di Julius da parte di Julius Poppa sì 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 sono quei match che secondo me anche il gusto tecnico del dell'arbitro del giudice determinano poi a chi va o meno il verdetto sono quelle triple 1x2 come ti dicevo prima davvero equilibrato davvero equilibrato secondo me questa ripresa finale sarà decisiva per l'assegnazione del match e del titolo leggero mi scrivono mi scrivono l'avevo letto prima match combattuto per ora leggermente avanti il rosso bel ritmo leggermente il blu anche se tifo rosso un po di discordanza dario a commentare sei quasi più bravo e coinvolgente di alessandro duran questo è un complimento fatto da Fabione Turchi altro campione fratello siamo cresciuti insieme quindi non vale ma mi fa piacere lo stesso seguiamo adesso questa ripresa che già sono partiti fortissimi fortissimi hanno aumentato il ritmo eccoli qua ecco questo è senza scuso nel colpi perché questo determina il racconto Reggi va a segno non smette prova a entrare con il montante Julius cerca di svincolarsi se ne va ma Daniele non Reggi non molla continua non andargli contro ma Julius risponde bello e poi la restituzione del gancio sinistro da parte di Reggi lavora a colpo è ineccepibile mi sembra un po' in riserva Julius e questo non depone a suo favore perché se Reggi continua a mantenere il ritmo che noi sappiamo che ha non puoi non puoi cedere non puoi abbassare la guardia non puoi essere assolutamente no Julius dovrebbe lavorare molto di più col jab destro eh tenerlo a distanza perché anche a media e corta distanza non ce n'è non ce n'è Daniele più fresco eh ha una mole di lavoro maggiore è un grande incassatore anche assolutamente tantissimo quella è una distanza a cui Julius non dovrebbe stare bel lavoro al corpo quello quello si sente alla lunga bella serie adesso di Julius che manda a vuoto anche in fase finale Reggi che poi restituisce un destro e montante doppiato con la stessa mano bellissimo e anche preziosismo tecnico diciamo vediamo che prova attaccare occhio Reggi perché quando è andato a vuoto poteva rischiare se Julius fosse buttato in avanti avrebbe messo segno sicuramente un colpo c'è un po' di stanchezza è assolutamente comunque lavorare d'anticipo con uno come Reggi che non te lo levi da dosso è un lavoro dispendiosissimo comunque ricordiamoci che non sono leggeri sono 81 kg sono 81 kg al terzo la terza ripresa 81 kg lavorando a questo ritmo assolutamente sentono il secondo giorno di combattimenti che anche quello in anche quello conta tantissimo bellissima adesso la serie di Julius che trova anche il montante ma poi è costresto a subire la sua ancora interessante di Reggi esatto restituisce due colpi adesso Julius davvero un match bellissimo bello adesso il montante di Julius adesso risponde Reggi che il gancio destro colpo chiude alle corde prova entrare cerca vediamo come no qua viene diviso pensavo entrasse con i montanti beh sicuramente chi mette gli ultimi colpi qui si aggiudica il match e la ripresa bellissimo adesso doppio sinistro e destro sinistro e destro da parte di Reggi che manda vuoto poi la risposta di Julius che rimanda vuoto di nuovo la risposta di Reggi guerra e scacchi allo stesso punto bellissimo prova entrare vediamo i montanti ecco no va con i dritti Reggi lo mette all'angolo mette Julius all'angolo provo a colpire ma Julius non molla si abbassa e cerca di colpire anche lui Reggi per entrambi credo che sia la cosa più importante che stiano facendo nella loro carriera è bellissimo alla fine quel diretto sinistro quel diretto sinistro bellissimo ripresa assurda ancora più difficile da assegnare rispetto alle precedenti davvero e adesso vinca il migliore Dario una domanda non me la fare non ti chiedo chi vince ma quel diretto sinistro buttato a segno da Julius alla fine su Reggi bello pulito beh sicuramente lasci nella memoria dei giudici un bel ricordo non era casuale perché è lo stesso diretto sinistro che ha trovato la strada anche quando Julius aveva la lucidità ti dico non so se basta quello a vincere la ripresa una ripresa che comunque l'ha sentito Dani si è fatto assolutamente si vede anche sugli occhi è stato pieno è stato un match bellissimo davvero faccio difficoltà faccio davvero un'estrema difficoltà sia personale perché conosco entrambi e siamo amici con entrambi e sia a livello proprio di giudizio ragazzi io non so non so davvero a qua lasciamo qui è gusto qui aspettiamo qui aspettiamo aspettiamo il commissario tecnico ha preso in mano i verdetti dei beh sicuramente ha vinto la box in questo match sicuramente questo come in altri match ha vinto la box assolutamente non l'ha gradito Reggi l'ultimo diretto eh non l'avrei gradito manco io siamo pronti è arrivato dunque il verdetto di questa finale categoria elito 81 kg vola ai nazionali ed è dunque campione regionale Daniele Reggi grazie a tutti 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 grazie a tutti